Allora, ciao, buongiorno. Allora siamo venuti a fare una visita qua in Piazza dell'Europa dove da quasi un mese, dovrebbe essere un mese, questa deve essere la quarta o quinta settimana, è stato portato il mercato del contadino che prima era in Campo Marconi. Era in Campo Marconi e diciamo era un po' una fonte di stress perché tanti residenti ovviamente non potevano più parcheggiare lì in Campo Cannoni e quindi c'era un po' di attrito e quindi siamo venuti a sentire. Mi dispiace che parlo io e non faccio parlare gli operatori perché sono tutti un po' impegnati e qualcuno è timido, ma comunque riferircono e sono ben contenti di essere qui sia perché effettivamente è più centrale e quindi c'è anche un migliore afflusso di persone ma anche perché così non danno fastidio ai residenti e quelli che parcheggiavano che si trovavano di sabato con la difficoltà di non poter parcheggiare praticamente. Quindi è una bella cosa, oggi è una giornata bella, ci sono questi espositori, ricordiamo che la maggior parte di loro produce direttamente e quindi vuol dire anche che si parla tanto di sostenibilità, di fare le cose in maniera diciamo che si inquina sempre meno, che ci sia il chilometro zero e qua con questi tanti espositori come potete vedere ripeto mi dispiace che non parlano loro direttamente ma comunque si fa questo. Oggi ci sono diversi acquirenti, vediamo tanti signori con le borse che si guardano anche e niente, quindi buona giornata e buon proseguimento.